Compagnia Dog, gli uomini sulle spiagge contano su di noi per distruggere cannoni costieri su quelle scogliere E aderateli, raggiungete la cima e sbrigate il lavoro Ma perché io sono il primo? Ma non voglio... No, io sono il terzo io Io sono il primo Io sono il primo Oddio ragazzi, preparatevi, preparatevi, oddio Preparatevi No, non aprire adesso che c'è in mezzo al casino Ma non siamo neanche arrivati Via 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 Oddio Questa parca esplode probabilmente Ma sono, ma sono, sono noi poi Eh, sono davanti Stanno sparando Anziamo ragazzi, avanziamo Ma io ho sparato lui Ma cos'è che vuol avanti Avanziamo ragazzi, dobbiamo avanzare a questa nostra squadra Dobbiamo andarci nella spiaggia, non possiamo rimanere qua Ascolta, ma se ci riesce la CPU di Arma 3 Perché non dovremmo... Esatto Soldati, ricordate I mortai non cadono in un po' No Non è possibile Vai 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 Abbiamo degli alleati a destra in alto Andiamo, seguiamo loro Oh ma quelli là sono nemici Aiuto Sono nemici quelli là in fondo Ragazzi Oddio Oddio no Quelli da sopra ragazzi Madonna Ma ciao ragazzi È stato bello Io pure Eh ma occhio C'è l'MG da sopra Stattento L'MG42 Ma c'è un sopravvissuto che sta rianimando l'altro Quanto è come moriamo male Oh Madonna Di fianco al bunker c'è un'MG42 Davanti a voi ragazzi Davanti a voi Esatto E anche a sinistra c'è un'MG42 pezzata Guarda no ma quanta gente No non lo ho preso Guarda ti qua attrazione diretta Cosa ma tipo ci vede che Ma noi mancano dei Venite qua ragazzi Sto arrivando aspettate Mancano delle persone Ma perché non muore l'MG42 risparmio? Cazzo Coordinate le coordinate Coordinate le coordinate Ma che cazzo? Oh dobbiamo andarcene dalla spiaggia Eh adesso ci cominciano a sparare l'MG probabilmente Perché non muore quello con l'MG? È immortale Ma soprattutto perché cazzo ancora siamo qui in mezzo Dio mio Perché dopo è pieno di'MG Dobbiamo uccidere l'MG È pieno di'MG ma non ci ho sparato tutto prima Ma adesso si ci spara I bug di arma Buon amore Guarda dove l'MG là Eccole adesso si sparano Eccole E infatti uno l'ho ucciso Dai via il 2 Madonna quanti headshot Davvero È via 3 Oh cazzo Oh ho ucciso i 4 Gli'MG non c'è più guarda Corriamo queste bunte Sottacca con le bunte Ecco ce n'è un'altra Un gatto attacca i coglioni È impressionante come pure quel gatto attacca i coglioni Oh cazzo Aiuto 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 Ah è su un morto Oh manio Ciao 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 Ho messo gli esplosivi Scappiamo scappiamo Come scappiamo Ma cazzo Non abbiamo neanche Non abbiamo copertura Vai distruggi Fai planza Fai poligono Eh già si è attivato da solo Vento Come pensi Ecco Io l'ho finito Sì 7 secondi 5 secondi ragazzi 5 secondi di esplosione Tornali Ah no 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 Madonna mia Mi pente di aver scelto lo sprint Quello cazzo Quello sappiamo No da che abbiamo tutti lo sprint So i cerchi Anch'io Non muore Madonna Un supernazista Che non muore Ma l'altro che non mi dice Scusate ma Ah ma è stato Finare Ma 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 ha temato Lo vedi anche tu Quello nell'MG Che non muore Cazzo No io sto 40 in mezzo alla valle Tipo Trova i cadavri a terra Trova i cadavri Ma chi è quello che corre là sotto Crucco Crucco Dove siete ragazzi Venite verso di me Dai Venite verso di me Dobbiamo scegliere la collina Questa è una buonissima cosa Aspetta Dobbiamo attivare Dobbiamo distruggere sti pack ragazzi Dobbiamo distruggere i pack Non ci guardano Si è scritto nei incarichi E' partito Ma come fai Lanci la bomba anticarro Ho rubato l'artiglia Ma perché c'ho No Cosa hai fatto Oh è sparita È sparita comunque Ecco Ti starai nei mandi Ti starai nei mandi Troppo vicino Pensava che ci avessi Ti avessi Ti avessi Sono saltati Ragazzi Io sono vestito da crucco Mi sparono i miei alleati Adesso Ah ma come Come hai fatto a prendere il vestito da crucco Eh perché ho dovuto cambiare le munite Perché ero a vuoto Di caricatore Non avevo più niente Cazzo è questo Tipo Comunque ho avuto Le hai disintegrate Capire volati in aria Eh avete anche voi Delle granate anticarro ragazzi No io non c'ho fatto nulla Io ce le ho 4 Prendete delle munizioni Delle cose Ecco però Usa quella Nicola vai Oddio Sì vedere le granate volare Niente Che non ci prende Madonna Non vuole esplodere cazzo Oh no Oh Vedi con la che io non ho più Guarda lì che lancio eh Ma no è sbagliata la granata È sbagliata la granata Ah Tiro io Oh tiro io Tiro io Però era bello un bel lancio Guarda secondo te Se l'ho sbagliata qua giù cosa mi dai Ehi lo Quella volta Ma questo è matto Vai prova Sì bello bel lancio Eh ma guarda dove era Bello Quante cazzo ne hai Ma non è ancora esploso Abbiamo finito Incarichi Ah ok no Bisogna andare Dietro adesso Ok 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 Allora c'è la missione Dove devi Eh devi Bisogna andare Alla cosa Qua è la secondaria Di capo 40 Ok cosa abbiamo potuto Di rispondi Quindi forse Arrivano a tanta gente Oh sì Caramato Caramato Merda Merda Caramato dove? A destra Io gli sto facendo il giro Io Non lo voglio Io lo rubo eh Caramato o eh No no Caramato Caramato Ah ma perché c'è una strada qua Non è un carro Ma sono i nostri Ma sono i nostri Ma vaffan Cos'è Mi cingolato i nostri Bella Poi è fuggito C'è un'altra che ha detto Oh ragazzi mi c'era uno strappo Oh si è fermato Scendono Grande E spara E si sparano C'è sì No ma perché c'è gente Oddio c'è gente qua Sì sì Tanta gente si va davanti a noi Sul Sul Il villaggio Ma scusa ma scusate Ma abiccerano Oddio ma sono morti male Cazzo Da bisantemente Quanta gente c'è davanti Ma non la schimbianca Hanno schimbianca questo Aiuto mi sembra di rinnovazione Ah c'è quello lì Aiuto Sì ma c'è gente che davanti cazzo Che chi del bisogno I need to help Ma che so se Perso la libertà Tanta 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 tana 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 Sì eh cos'è Sì di anelli Nя nana Ma se tu che stai Guidando Oddio ma che cazzo è Ma ancora la frattire che sta arrivando Ah ad un panzer mattami Cioè ad un panzer Ma non panzer Scendi 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 Allora noi dobbiamo rubare un Panzer Faust Non so io ragazzi, non so io Usa il pack, esatto però Sì ma non è un obice, è un pack Ma dov'è il pack? Non so, io vedo che sparavano con un 20 mm Aiuto Ragazzi sono a vostra destra Ah, è la contraera Oddio mi han preso male No, vedo sotto il terreno adesso Ragazzi dobbiamo una mano dietro il pack Dietro il pack di Nicola Dai col pack sto facendo le peggio kill Vabbè ma responi qua tanto solo Ah ma sei tu sul pack Matteo Ma se vuoi? Ma doveva le silenzio? Oh ma sta? Dai cecchini di merda Ah i pack sono sui Danna mano Matteo, danna mano Ok, ho preso l'artigliare io Fa sedere dietro mano Dai rivolgo Dai arriva solo i cicli Madonna è volata la zetta Beh è un carro Al pack c'è il pack a destra Ragazzi c'è il pack a destra Dove stavate sparando prima? Vabbè Eh sì aspetta aspetta Ma intanto vai Noi andiamo Adesso stiamo fuori ufficiali Questa è un'antena satellitario Matteo Ok, ho preso l'artigliare Ok, ho preso l'artigliare Ok, ho preso l'artigliare The rangers looked up And saw the enemy soldiers The edge of the cliffs Shooting down at them With machine guns And throwing grenades And the American rangers Began to climb They shot rope ladders Over the face of these cliffs And began to pull themselves up When one ranger fell Another would take his place When one rope was cut A ranger would grab another And begin his climb again They climbed Shot back And held their footing Soon One by one The rangers pulled themselves Over the top And in seizing the firm land At the top of these cliffs They began to seize back The continent of Europe 225 came here After two days of fighting Only 90 could still bear arms These are the boys of Guantalupe slary- Either they cut through Or they would walk He pulled thab Of their fish Of theiraya The co-founder Of their bosau komplett